Le vacanze pasquali e i ponti di fine aprile hanno rappresentato la prima vera finestra turistica del 2023 e ci forniscono importanti indicazioni sui trend della domanda. Il turismo è apparso complessivamente molto tonico, un po' in tutte le sue forme e quindi anche nel canale del turismo organizzato. I volumi raggiunti si sono molto avvicinati a quelli del 2019 che, è bene ricordarlo, fecero registrare i risultati record proprio per il calendario favorevole che aveva collegato le festività pasquali con i punti di fine aprile creando poi il famoso neologismo di ferro aprile. Ma dove sono andati gli italiani? Molto in Egitto, sia nella sua costola balneare rappresentata dal Mar Rosso sia per la parte più culturale con la navigazione sul Nilo, poi Capoverde, le Maldive e su lungo raggio segnali molto positivi li abbiamo visti anche sul Giappone e sugli Stati Uniti. Molto importanti anche i risultati messi a segno dall'Europa con Islanda e Norvegia su tutte e risultati ragguardevoli li abbiamo registrati anche sulle crociere, una tipologia di vacanza molto amata dagli italiani. Molto bene anche i viaggi studio che tuttavia realizzano i propri volumi a prescindere dalle festività primaverili. Ma che cosa ci dicono questi risultati? Ci confermano quello che soprattutto nel post pandemia si è rivelato come un fenomeno di tendenza molto solido. La vacanza è diventato un bisogno incomprimibile, un ristoro psicofisico irrinunciabile. Eppure l'inflazione ha fortemente colpito il margine di manovra della spesa degli italiani. Ha interessato anche il turismo? Certamente sì, sono aumentati un po' tutti i prezzi e quindi anche i prezzi dei servizi turistici. Peraltro molto interessati anche dal caro energia basti pensare alle strutture alberghiere ma soprattutto ai voli. Però gli italiani non rinunciano a quella che è diventata una vera e propria necessità. Aggiustano il tiro sulla distanza delle destinazioni, sulla durata del viaggio, accettano magari qualche compromesso anche sulla struttura alberghiera ma non rinunciano a questo momento indispensabile per moderare lo stress quotidiano e per ripartire a rientro con rinnovata energia. Queste sono tutte ottime notizie per un comparto che ha sofferto forse più di altri durante la pandemia e finalmente adesso inizia a tirare il fiato ed infatti anche l'outlook sulle eminenti partenze estive è molto incoraggiante. Insomma qualcosa sta cambiando. Le imprese turistiche si occupano sempre di sogni e di regalare momenti felici ai propri clienti ma oggi assumono un ruolo anche sociale perché diciamocelo senza paura viaggiare fa bene al corpo ma soprattutto fa bene alla mente e ci aiuta a digerire le storture della vita. Durerà ancora per molto questo fenomeno? Sicuramente sì per il 2023 e probabilmente sì anche più avanti ma per questo dovremo aspettare ancora un po' visti i cambiamenti repentini che la società contemporanea ci impone di accettare. Intanto però le imprese turistiche passano all'incasso e dopo due anni di dieta ferrea meno male che sia così.